Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose strane, misteriose e oscure siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e stringere un cuscino tra le braccia perché ora iniziamo ad indagare sul file di oggi. Ecco, dato che negli ultimi giorni ci sono stati tantissimi nuovi iscritti vi spiego velocemente come funziona il canale. Anche se mi seguivate già in realtà non ho mai spiegato niente quindi è tutto valido per tutti. Intanto benvenuti a tutti quanti, sono davvero felice che questi video stiano piacendo e spero davvero di migliorare sempre di più e trovare sempre storie più interessanti. Detto questo, come avete notato all'inizio del video dico ciao belli de zio. Ecco, a qualcuno ho notato che dà fastidio ma in realtà è nato tutto su Twitch prima ancora che aprissi questo canale. Boh, da un momento all'altro ho tipo iniziato a dirlo e piaceva molto quindi ho deciso di dirlo anche qui. Semplice semplice. Poi il nome è Andrew Files, Andrew sono io, in realtà mi chiamo Andrea, ma da quando sono piccolo tante persone mi chiamano Andrew e ho deciso di scriverlo proprio così come si pronuncia perché sembrava divertente. Comunque Files invece l'ho scelto facendo riferimento alla serie X-Files che sono sicuro conoscete. Se non la conoscete comunque è una serie della fine degli anni 90 dove gli agenti indagano su fenomeni inspiegabili e decidono di chiamare X-Files i fascicoli e le indagini insomma. Ecco, nello stesso modo in questo canale ogni video si concentra su un caso che può essere misterioso, strano o semplicemente raccapricciante come quello di oggi. Quindi in ogni video indaghiamo insieme su un file. Non lo so, forse è un'idea un po' stupida ma per il momento sta funzionando quindi va bene. Tra l'altro nella sezione playlist del canale ho suddiviso i video in vari argomenti. Come vedete ci sono i Mystery Files, Murder Files e così via. In questo modo è più facile per voi trovare i contenuti che più vi interessano. Ok, scusate ragazzi ma era una cosa che prima o poi dovevo spiegare. Spero sia tutto chiaro e come ultima cosa prima di iniziare vi ricordo velocemente di seguirmi anche su Instagram dove ogni settimana vi avviso dell'uscita dei nuovi video dato che ultimamente YouTube fa fatica a inviarvi la notifica. E in generale comunque vi faccio anche vedere un po' il dietro le quinte di tutti questi video. Quindi se volete siete benvenuti anche lì, altrimenti non cambia nulla. Adesso però finalmente iniziamo con il file di oggi. Preparatevi. Per il file di oggi ci troviamo in Giappone, alla fine dell'estate del 1988. In questo periodo un uomo di nome Tsutomu Miyazaki inizia a spargere il terrore tra le strade. E no, non c'entra nulla con il grande Miyazaki dello studio Ghibli. Tranquilli. Le azioni terribili di Tsutomu lo avrebbero portato ad essere uno dei criminali più efferati e famosi della storia giapponese moderna. Potreste già aver sentito il suo nome in altri vari video su YouTube dove analizzano i suoi crimini nel dettaglio. Oppure per i suoi vari soprannomi che gli sono stati dati negli anni, come l'uomo topo. Oppure quello più famoso, ovvero l'otaku killer. Vi racconterò anche io la sua storia e spero di aggiungere magari qualche dettaglio che non conoscevate. In questo video vi avviso tratteremo dei temi molto delicati, quindi se pensate di essere sensibili vi sconsiglio già da adesso la visione. La storia di Tsutomu Miyazaki ha inizio il 21 agosto 1962. Ci troviamo a Itsukaichi, una città situata nel distretto di Nishitama nella metropoli di Tokyo. Tsutomu è il maggiore di tre figli, ma è nato prematuro e appena partorito pesava solamente 2 kg e 200 grammi. È nato in una famiglia molto benestante. Il padre infatti era l'editore di una delle testate giornalistiche più conosciute di quella zona. Come molti genitori nelle culture orientali, anche loro sono estremamente severi. Esigono molto da lui e pretendono che abbia successo in tutto quello che fa. Lui però di natura è timido e introverso. Una caratteristica che per molti è assolutamente normale. Per lui però è un vero e proprio ostacolo, che gli impedirà di interagire con tutti i suoi coitanei. Oltre a questo, Tsutomu è nato con una rara condizione alle articolazioni. Questa condizione gli aveva causato una malformazione, portandolo ad avere le articolazioni della mano fuse ai polsi. Non credo che questo sia il modo più accurato per descriverlo, ma è per farvi capire, insomma. La malformazione gli impediva di piegare le mani verso l'alto, costringendolo a muovere tutto l'avambraccio per poter muovere la mano. Durante il periodo in cui frequentava la scuola elementare di Itsukaichi, veniva spesso bullizzato ed emarginato proprio per queste sue mani mostruose, così le chiamavano. Nonostante questo, lui era uno studente modello e superava tutti gli esami a pieni voti. Questo almeno fino a quando cominciò a frequentare la prestigiosa scuola superiore Meidai a Nakano. Qui il suo rendimento per qualche motivo aveva subito un brusco crollo. In questo periodo cresce anche la sua passione per i fumetti e ne diventa un accanito lettore, arrivando anche a disegnarne alcuni. Col passare del tempo però i risultati scolastici di Miyazaki continuavano a peggiorare in maniera sempre più significativa, portandolo ad essere classificato quarantesimo sui 56 alunni presenti nella sua classe. Per via del sistema scolastico estremamente competitivo presente in Giappone, non era riuscito ad accedere all'università che avrebbe voluto frequentare. Lui infatti sarebbe voluto andare all'università di Meiji per diventare un insegnante di inglese, ma dovette abbandonare i suoi sogni e ripiegare su un'università locale. Qui studiò due anni per diventare un tecnico della fotografia, ed è durante questo periodo che Miyazaki mi inizia a fare delle cose inquietanti. Da questo momento si possono iniziare ad intravedere i primi segnali di squilibrio e pazzia. Dimostra degli istinti s*****li al di sopra della media. Verrà beccato a fare delle foto all'in... alle giocatrici di tennis dell'università. Oltre a questo stava anche cominciando ad essere ossessionato per le riviste pornografiche. E proprio grazie a queste scoprì pian piano di avere molti, molti feticismi strani, molto strani, non posso dire nient'altro. E infatti quelle riviste iniziarono presto a non bastargli più. Non si sentiva più soddisfatto alla vista di normali persone in pose s*****li. Cominciò quindi ad esplorare un mondo proibito e malato. Dopo ci arriviamo. Circa a metà degli anni Ottanta, Miyazaki si laurea e torna a vivere di nuovo a casa dei suoi genitori. Dove però è costretto a condividere la stanza con sua sorella minore. I suoi genitori ovviamente iniziano a spronarlo per entrare nell'attività di famiglia. Ma lui non voleva assolutamente. In quel periodo l'unica cosa che desiderava davvero era qualcuno con cui parlare dei suoi problemi. Ma i suoi genitori erano troppo impegnati. Non aveva nessuno con cui parlare davvero. Nessuno che fosse disposto ad ascoltarlo. Sempre in quel periodo infatti Miyazaki aveva iniziato a prendere seriamente in considerazione l'idea di togliersi la vita. A dire la verità però qualcuno si interessava a lui. A casa sua c'era un membro della famiglia in particolare che sembrava mostrare un interesse sincero nei suoi confronti. Questa persona era suo nonno. Per Tsutomu però era come se fosse un padre. Lo aveva cresciuto praticamente soltanto lui. Visto che i genitori erano sempre occupati nella loro attività. Nel maggio del 1988 però questo nonno che era l'unica persona con cui era mai riuscito a rapportarsi perde la vita. Miyazaki che già non stava bene sprofonda quindi in una forte depressione. Secondo molti questo sarebbe stato l'evento che fece scattare una scintilla in lui. Una scintilla che gli avrebbe fatto compiere delle atrocità quasi innominabili. Pensate che per far sì che suo nonno rimanesse sempre con sé, il ragazzo mangiò di nascosto parte delle sue ceneri. Da quel momento cominciò, come fanno tanti serial killer, a tornare e uccidere cani e gatti in modi orrendi che non posso e non voglio nemmeno descrivervi. Dopo pochissimo tempo iniziò a replicare tutte queste azioni su delle vere e proprie persone. E qua comincia la parte davvero brutta quindi vi ripeto ragazzi se credete che alcuni temi violenti possano darvi fastidio o impressionarvi, saltate questa parte. Le sue vittime sono state tutte bambine di un'età compresa tra i 4 e i 7 anni. La prima ad essere colpita dalla sua furia fu Mari Conno, di appena 4 anni. Il 22 agosto 1988, ovvero il giorno dopo del suo 26esimo compleanno, Miyazaki vede la piccola mentre gioca tranquilla con un suo amico nel parco giochi della zona. Si avvicina a lei senza farsi vedere da nessuno e con una scusa la porta nella sua macchina, una Nissan nera. Poi guida fino ad arrivare sotto ad un ponte dove i due parlano per circa mezz'ora. Infine colpito da una sorta di follia ommida, inizia a straclarla con le sue stesse mani. Dopodiché abusi il suo c***o del suo cadere. Una volta fatto ciò si diresse verso una collina vicino a casa sua e lì scaricò i resti della piccola vittima. Ma in quel modo non la lasciò riposare in pace. Aspettò invece che il suo corpo si decomponesse per qualche tempo e tornò a prendere le sue membra per tenerle come trofei in casa sua. A questo punto qualcuno di voi potrebbe chiedersi come facciamo a sapere tutti questi dettagli, ebbene tra poco lo capirete. Miyazaki comunque continuò bruciando il resto delle ossa di Mari e poi mise le ceneri in una scatola insieme ad alcuni dei suoi denti. Poi fece una cosa davvero agghiacciante. Inviò quella scatola alla famiglia della piccola. Insieme al pacco c'era anche una cartolina in cui spiegava nel dettaglio le cose orribili che aveva fatto alla piccola. Ma inserì anche un'altra cartolina in cui scrisse Mari, cremata, ossa, indagare, prove. Queste prove vennero inviate da un certo Yuko Imada, che in seguito si scoprirà essere lo pseudonimo di Miyazaki. Una volta che queste informazioni diventarono pubbliche, tutti i media di allora iniziarono a parlarne. In realtà tutti credevano che quelle ossa non appartenessero alla piccola Mari, ma che fossero uno scherzo di cattivo gusto. La madre ancora speranzosa di poter trovare sua figlia viva, rilasciò ad un media locale queste dichiarazioni. Dopo la messa in onda di questo filmato, Miyazaki scrisse una lettera al giornale sempre con il suo pseudonimo. In quella lettera c'era scritto La persona che ha inviato quella scatola piena di ossa a casa di Mari ero davvero io. Tutto quello che ho fatto a Mari è stato pianificato da me. C'è una ragione per cui sto scrivendo questa lettera e esponendovi alla verità. Per prima cosa le ossa dentro alla scatola sono senza dubbio le ossa di Mari. Ed ecco la prova. La prova di cui parlava era una descrizione nei minimi dettagli. Una descrizione dei fatti che avrebbe potuto dare solo il diretto responsabile. E infatti disse Prima che me ne rendessi conto il suo corpo stava diventando rigido. Volevo incrociarle le braccia sul petto ma non riuscivo a muoverle. Ben presto numerose macchie rosse si manifestarono su tutto il corpo. Sembravano tante bandiere giapponesi. Prima sembrava rigido ma ora sembrava come se fosse gonfio d'acqua. E puzzava. Puzzava tremendamente come mai nella vostra vita abbiate sentito. E continua. L'altro giorno ho visto in televisione che sulla base delle false informazioni date dalla polizia. La madre di Mari dichiara di avere ancora speranze. E a quel punto ho sentito l'urgenza di concludere questa faccenda. Per questo sto scrivendo questa confessione oggi. Nella lettera aggiungeva anche che sperava di continuare a fare quelle atrocità per altri 15 anni senza essere scoperto. In quel modo avrebbe soddisfatto il suo desiderio di incontrare bambini che volevano stare con lui. Noi sappiamo qual è il vero volto dell'assassino ma al tempo nessuno lo conosceva. Immaginate il panico che ha scatenato una notizia del genere. Comunque dato che appunto sappiamo chi è posso dirvi che in seguito al suo arresto nell'armadio di Miyazaki vennero trovate poi le mani e i piedi di Mari. Ma tornando al 1988 Miyazaki non ci mise molto a mantenere la sua promessa. Così dopo appena 6 settimane l'uomo colpì ancora. Il 3 ottobre dell'88 infatti avviene il suo secondo m****io. Si tratta di una bambina di 7 anni chiamata Masami Yoshizawa. Miyazaki la vede lungo una strada tutta sola. Lui è in macchina così si avvicina alla bambina e le chiede dove stava andando. Una volta sentita la risposta si offre subito di darle un passaggio con la sua macchina. La piccola Masami accetta l'offerta e sale con lui. Miyazaki però non va dove le ha detto la bambina. La porta invece nello stesso posto in cui aveva portato Mari. Arrivato in questo luogo che per lui ormai doveva aver assunto un qualche significato. Uccide anche lei. Si dirige poi verso la stessa collina della volta scorsa. Qui Miyazaki dirà che dopo aver raggiunto il luogo il corpo di Masami ebbe una contrazione post mortem. Al che si spaventò e finì per lasciare il cadavere lì senza neanche seppellirlo. Circa due mesi dopo il 12 dicembre 1988 avviene il terzo m****io. Si tratta della piccola Erika Namba di 4 anni. Quel giorno come succedeva spesso Erika stava tornando a casa sua dopo aver passato il pomeriggio a casa di una sua amica. Questa volta però accadde qualcosa di diverso rispetto alle altre due. La piccola non voleva salire in macchina con Miyazaki. Lui però ovviamente la costrinse con la forza. Guidò quindi fino a un parcheggio a Naguri dove la costrinse a s***i e andare sul sedile posteriore. Le disse che voleva soltanto scattare delle foto ma purtroppo andrà a finire come le altre due volte. Questa volta però non muove il suo c***o ma le lega le mani e i piedi dietro la schiena per poi coprirla con un lenzuolo e lasciarla in un parcheggio vicino ad un bosco. Probabilmente a quel punto sentiva che non l'avrebbero mai preso dato che se l'era cavata per due volte. Difatti il 20 dicembre di quello stesso anno la famiglia di Erika riceve una cartolina inviata da Miyazaki. Al suo interno c'era un messaggio scritto con delle parole ritagliate da dei giornali. Queste parole non formavano proprio una frase ma come aveva fatto con la famiglia di Mari erano una sorta di indizio per far capire cos'era accaduto. Questa volta c'era scritto Erika, freddo, tosse, gola, riposo, morte. Il quarto e ultimo m***o video avviene il 16 giugno 1989. Quel giorno nel parco vicino ad un campo da tennis Miyazaki nota a Yoko Namoto di 5 anni che giocava da sola. Le si avvicina senza farsi vedere e con la sua fotocamera riesce a convincerla a farsi scattare qualche foto. Dopo averne scattate alcune nel campo, l'uomo le propone di andare a farne altre nella sua macchina. Le dice che sarebbero venute delle foto molto più belle lì. Purtroppo, come sappiamo, non è difficile ingannare un bambino in questo modo. Quindi lei accetta. E una volta arrivati nella sua macchina, Miyazaki fa le stesse identiche cose delle volte precedenti. Questa volta però si spinge anche oltre, molto oltre. Porta il corpo a casa sua e registra video e scatta foto di se stesso intento ad abusare del corpo di Yoko. Quando il corpo cominciò a decomporsi, Miyazaki lo s***o e abbandonò il busto in un cimitero, mentre la testa sempre nelle colline vicine. Due settimane dopo però, Miyazaki tornò al cimitero e alle colline perché aveva paura di essere scoperto e riportò i resti nel suo appartamento dove li nascose in un armadio. Durante questi omicidi, Miyazaki continuava anche a mandare messaggi strani alle famiglie. Mandava lettere con dentro scritti i dettagli di cosa aveva fatto anche dopo diverse settimane. I familiari dicevano anche di ricevere numerose chiamate, anche ad orari assurdi. Quando rispondevano però sentivano soltanto una persona che respirava e non diceva nulla. Una volta dissero di aver tenuto aperta la telefonata per 20 minuti, aspettando che qualcuno rispondesse o dicesse qualcosa. Ma nulla, soltanto un respiro affannato. Questo dettaglio, se ci pensate, è davvero agghiacciante. Quello che hanno vissuto queste famiglie deve essere il peggiore degli incubi che diventa realtà e di fronte al quale sei totalmente impotente. Davvero allucinante. Ma continuiamo con la storia. Il 23 luglio 1989, Miyazaki vede due sorelle giocare in un parco a Dacigi e riesce a convincere la sorella più piccola a seguirlo. La sorella maggiore però fa finta di nulla e corre da suo padre a raccontare tutto. L'uomo ovviamente si precipita a vedere cosa sta succedendo. E appena li raggiunge in mezzo al bosco, vede che Miyazaki sta scattando delle foto a sua figlia. Ma diciamo che ecco, lei non era propriamente vestita? Il padre quindi piomba immediatamente addosso a Miyazaki cercando di fargli del male, ma non riesce a trattenerlo. La c***a non riesce quindi a scappare da quella situazione. Dopo essere scappato via però, torna al parco per recuperare l'auto che aveva lasciato parcheggiata lì vicino. Ma il padre di quella potenziale vittima aveva prontamente chiamato la polizia. Appena Miyazaki si avvicina al parco, viene subito arrestato dalle autorità. E da qui seguono alcune scoperte sempre più scioccanti. Gli agenti perquisirono subito casa sua, e all'interno trovarono ben 5763 videocassette, tra cui anime di ogni genere e molti film horror polizieschi. Tra questi la polizia trovò anche le foto e i video di quello che faceva le sue vittime. Durante tutte queste perquisizioni Miyazaki però mantiene sempre un comportamento calmo, e sembra quasi come se non gli interessasse per nulla. Durante le indagini la polizia scavò anche nel campo davanti a casa sua, in cerca di ulteriori prove, e lì ritrovarono il teschio di una delle vittime. I media lo etichettarono subito come otaku killer, per via di tutte le cassette di anime trovate a casa sua. Tutto questo caso aveva macchiato il nome della sua famiglia per sempre, e il padre era talmente tanto disgustato da quello che aveva fatto, che non gli pagò nemmeno i soldi per l'avvocato. Sempre suo padre morirà sui c***a nel 1994. Il processo del killer però iniziò il 30 marzo 1990, e la storia che raccontò Miyazaki in tribunale era semplicemente delirante. Passava dalla verità alle bugie, per poi raccontare storie di strane superstizioni. In uno dei suoi interrogatori ha dato la colpa delle sue azioni a un uomo chiamato Ratman, ovvero uomo ratto. Questo però non era altro che un alter ego di Miyazaki, una parte oscura di se stesso che lo forzava ad uccidere. E pensate che riuscì anche a fare un identikit di questo Ratman. In seguito comunque verrà pubblicato un libro con la trascrizione completa dei suoi interrogatori. Durante gli anni in cui era rinchiuso in carcere, Miyazaki fu oggetto di molteplici perizie psicologiche e vennero fatte tre possibili diagnosi. La prima diceva che Miyazaki era schizofrenico, la seconda che in realtà aveva addirittura un disturbo di personalità multipla, riuscendo anche ad identificarne quattro diverse. Mentre la terza disse che sì, aveva dei disturbi, ma era in grado di intendere e di volere. Ma alla fine, dopo i sette lunghi anni che Miyazaki passò in attesa del giudizio, il Tribunale di Tokyo stabilì che al momento dei fatti l'imputato era capace di intendere di volere, nonostante l'infermità mentale. Arrivano quindi alla conclusione che aveva commesso quei crimini per soddisfare i suoi desideri seriali. Secondo alcuni aveva fatto tutto questo solo perché desiderava fare un video da poter aggiungere la sua collezione di horror. Così il 14 aprile 1997 venne condannato a morte. La sua condanna venne poi eseguita il 17 giugno del 2008, dopo 11 anni. Miyazaki quel giorno venne impiccato senza mai pentirsi degli orrori commessi. Anzi, alcune persone dicono che le sue ultime parole dette agli psichiatri furono «Per favore, dite al mondo che ero una brava persona». Il corpo di Miyazaki venne cremato e venne contattata a sua madre per consegnarle le ceneri. Ma quest'ultima si rifiutò di prenderle, dicendo «Lascerò a voi il compito di pulire». Ad oggi le ceneri potrebbero essere sepolte in un cimitero dove si crede siano sepolti tutti condannati a morte. Nessuno ha accesso a questo luogo e lì non è presente alcuna lapide commemorativa. Giusto o sbagliato, le azioni commesse da Miyazaki sono rivoltanti. Siamo tutti d'accordo sul fatto che aveva bisogno di aiuto già dalla sua adolescenza. E questo è proprio quello che può succedere se si ignorano i campanelli d'allarme. Come in tanti altri casi che abbiamo analizzato in passato, anche questa tragedia si poteva evitare in migliaia di modi. Sono davvero rimasto sconcertato da questa storia e per certi versi mi ha ricordato l'altrettanto orribile vicenda di Albert Fish. Se volete in futuro parleremo anche di lui. Comunque detto tutto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del file di oggi, anche se credo non ci sia molto da pensare dato che tutto quello che viene in mente sono parolacce. Ma comunque io come al solito vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Ciao!